segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora maria rosaria rossi lei adesso appartiene ad una formazione che ha in mario draghi la sua stella polare e mi dica un po crede che il centrodestra stia facendo una forzatura quando chiede come condizione la espulsione di giuseppe conte del suo movimento 5 stelle dal perimetro della maggioranza ma è assurdo mettere in questo momento deti o condizioni quindi io sono fermamente convinta un po la penso diversamente insomma la riti perché non è questo il momento comunque noi che stiamo in parlamento non stiamo pensando ad un ritorniamo non ritorniamo dobbiamo portare delle riforme avanti per il pnr quindi dobbiamo ancora completare quelle che sono le opere infrastrutturali che sono le opere digitali che sono le opere energetiche dobbiamo portare avanti la transizione ecologica per la riduzione sull'impatto ambientale tra dieci giorni cioè a fine luglio noi in parlamento dobbiamo votare la proroga del decreto aiuti dove sono contenute l'abbassamento dell'iva per le accise dei carburanti dove è contenuto il credito imposta per le aziende ma mi scusi l'ello ha già anticipato anche il ministro brunetta per la prima volta forse in vigore l'abbassamento dell'iva per quei beni necessari per le famiglie di basso rendito in questo momento noi dobbiamo pensare così come ci ha chiesto il presidente mattarella ad un governo di alto profilo al di fuori e che non sia riconducibile ai partiti quindi parliamo di parlamentari singoli certo allora lei aveva gli occhi incollati su di me perché stavamo discutendo io e lei e non vedeva forse il sorriso beffardo di borgonovo mentre lei elencava tutte le necessità ma adesso ci arriviamo prima di andare da borgonovo Maria Luzaria